Bella raga, qui il vostro Zeus, benvenuti qui su Call of Duty Black Ops 3 Allora, vediamo, raga, cosa riesco a fare Ho preso, raga, il cecchino Siamo su Breach, là il cecchino E vabbè Dai, cavolo Allora, vediamo dove stanno No, di nuovo la sa come gli ho fatto, raga Dai, cavolo Io sono ancora senza mirino, qua non si è aggiornato, mannaggia Mi devo colpire ora Oh, che bella Mi sono spostato pure io per non prendere No, 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 no Ah, mi ho preso dalla distanza Allora, vediamo, vediamo un po' Eh, saliamo qua sopra Posso mettere la mina, la metto qua, ok Vediamo se vedo qualcuno No, 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 no Non ce l'ho fatta a prenderlo Comunque, entriamo da qua Mi arriva da mettere di nuovo là Sperando Uh, quello col Banshee Mannaggia, il mio compagno Grazie Mi aiutate il mio compagno Perché se no non gli morivo, rai Quello col Banshee C'è poco da fare Dammi qua In tal caso sempre si avvicina qualcuno E cambia Dai, qualcuno che esce Mi serve Me la campero, raga Un secondino qua Tanto così molto stealth Andiamo, preferisco questo di qua Prendo il cecco Andiamo a vedere qualcuno Uh, l'ho ucciso Ciao Bella Perché miro sempre i piedi, raga Perché mi sembra che si dropshottano Dropshottano E quindi mira i piedi Però non tutti si dropshottano E sta cosa la devo cambiare, raga Perché ogni volta faccio così Ok, ottimo Il cecchino stava dormendo Grandissimo No, mi ha purgato così Mi ha purgato così Ok, vediamo Vediamo No, allora non ce l'ho fatta a prenderlo Vabbè, me lo vado a prendere con Con qua la cosina Alla piazza questo qua Eccolo qua Ciao Ok, vediamo Vediamo un po' Se riesco a vedere qualcuno Vediamo, andiamo Vaia No Questo di qua sta dormendo Dai Cavoli, impara a giocare Bella Qualcuno viene da dietro Non penso Cioè, lo sento Lo sentire Aspetta Ecco, infatti Cioè L'ho sentito E ho detto Vabbè, ora mi giro Magari non so Non ho capito Perché non mi sono girato su Eh, qua ci muoio Eh, lui è così Non l'ha ingaggiato Va bene Andiamo da questa Mentre qua e là ci sono morti tutti Vediamo se c'è qualche avversario Ecco, infatti Ciao Allora, piazza questo qua Vediamo No, se l'ha fatto il mio compagno Mannaggia, come non devo vedere nessuno Dai, cavolo No Dai, dai Ce l'ho dietro Ce l'ho dietro, forse Però mi devo sbricare Mi devo Eh, infatti Pensavo che riuscivo a uccidere quello In realtà non è stato così Vediamo, raga Eh, qua devo modificare Uh, eh, vabbè Eh, di questi di qua No, eh, visto il Banshee È troppo forte del Banshee Mi distruggono sempre col Banshee Io Io non mi fido a utilizzarlo Praticamente Miro a destra Il Banshee Il colpo del Banshee Va a sinistra Quindi Banshee Per me è escluso Oh, va bene Ehm Ok Vediamo qua Non c'è nessuno Lì quello col Banshee Lui ancora qua che dorme E non ho più colpi Raga Blade, 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 Blade Ok Ok Andiamo da questa stavolta Vediamo se riesco a vedere qualcuno Raga Devo utilizzare pure l'arma Ah Scusate Sto morendo Eh, Dietmarker Devo utilizzare pure l'arma Del mio specialista Dai Non lo volevo uccidere io Non è giusto Allora, vediamo Piazzo Questa qua stavolta la piazzo Così almeno non lo sento Cioè Lo uccidono E invece non lo uccide Cioè Fa un Hitmarker Raga Non so come devo ucciderlo Come dovrei ucciderlo Piuttosto Senza le cose Senza i giusti Avvertimenti Impossibile Da prendere Allora Eh, lo volevo fare così Non ce l'ho fatta Allora Metto questa qua Ogni volta questa di qua Mi fa fare tantissime kill Cioè ogni volta che la piazzo lì È difficile che riescono a scappare Perché c'è la curva Poi Bella No Stavo sparando io Non mi è sparato Ok Bella Oh Infatti Eccola qua Tripla Tripla subito Ok Va bene Non mi lamento HCXD Aspettiamo un secondo Qua Eh Sì 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 Certo certo Non vi preoccupate Sono arrivati in 600 Andiamo a vedere con l'HCXD Cosa riesco a fare Dai dai No no Devi andare dritto Non arroccarti Dai Perché devi entrare dentro la mappa Allora Vediamo Vediamo qua C'è qualcuno Sì Ecco Ciao Vediamo No Eh raga Miro troppo Quando è così Miro troppissimo Devo fare il no scoop Perché così ogni volta sgarro Se no Cioè mi uccidono Praticamente Nel frattempo che io miro Sparo Magari lo liscio la volta Lo prendo Lo cerco di prendere la seconda volta Già allora mi hanno ucciso Quindi Vediamo Tra l'altro raga Ma me ne sono accorto ora Squadra ora Dai Non ci credo Ho fatto fuori l'HCXD Ma non ci credo Allora Vediamo se viene qualcuno Penso assolutissimamente di sì Assist Cosa Oh non ho capito Cioè Va bene 90 Vabbè questa di qua Già la ho portata a casa Cioè Non vedo come Bello sto colpa al volo No Questo mi fa Questo mi fa Eh infatti Lo sapevo Lo sapevo Eh vai vai da questa Potremmo entrare dalla porta Quella a destra Però non ci ho pensato Subito Grazie compagno Metti questa qua Prendi l'arma Qua cos'è il Il VMF Non l'ho capito No 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 Il Banshee Mannaggia sto Banshee Dai Dai cavolo Veloce Sali qui Metto questa di nuovo qua Vediamo Ma quante kill ci manca Una kill ci manca Che infatti raga abbiamo quinto Non sto guardando più Quante kill ci mancassero Eh Bella partita Bella simpatica Io col cecchino Non ho fatto tante cose Quante kill l'ho fatto In seconda Ok Eh Lì a posto Ottimo Vediamo di andarci a giocare La seconda partita Raga Perché questa di qua È stata molto simpatica Sono arrivato secondo Con 2000 punti Eh Ditemi ovviamente Se vi piacciono Le mie mosse Qua che sto facendo Eh La La mia cosa Il mio tag Il mio tag Praticamente Tag Stavo dicendo tag clan Quante kill l'ho fatto 19 13 GG Non me Ma il mio compagno Cioè È primo Quel primo a 1000 Cioè livello 1000 No è impossibile Raga Questo di qua L'avrà comprati Avrà shoppato da qualche parte Si avrà messo qualche mod Perché 1000 Quanto cavolo ci giochi Io se no Cioè è impossibile Allora Vediamo qua Che si carica Velocemente Vediamo Vediamo un po' Ditemi raga Se volete Che vi porto Delle challenge Qui su Bo3 Vediamo Ok Ce la andiamo a aprire Questo pacchetto Dai Dai cavolo Non riesce a aprire Vediamo cosa troviamo Una leggendaria Su così No Dai che schifo Cioè raga Che schifo Davvero Ma Vabbò Comunque Questa volta Prendo Non so Beh dai Prendo questo di qua Pronto qual è Ah la dub Ok L'ho sbloccata ora Praticamente In questo baule Dai prendo Outrider Qua non Cosa c'è Cosa c'è di sbloccato Qua raga Non lo capisco I don't know Perché non mi Bobo Non mi dà il cosino Vabbè Dai mi dà la notifica Che c'è Però in realtà Io non lo vedo Comunque Abbiamo preso Outrider Siamo su Aquarium Un bel aquarium Qua le mie classi Vesper L'Oculus Questi qua E l'ultima E col pompa La terza classe E col pompa Vediamo Aquarium Detmatch Vediamo quel tizio E infatti Il tizio Era quello che Nella scorsa partita Era arrivato primo Quello con mille punti Era nell'altra squadra Quello schianto gravitazionale Quindi Non so come andrà a finire Perché questo di qua Già è forte Poi Non so Secondo me Ha comprato qualcosa Perché Arriverà a livello mille Cioè Impossibile Comunque Vediamo Cosa riesco a fare Me la giocherò Sì però Non vi assicuro nulla Io sparro Outrider Perché poco fa ho detto Outrider Non so Vabbè Sparo Io non mi Non mi fia Utilizzarla molto Ehm Comunque Vediamo Qui Vediamo Mi prendo il vesper Raghe Perché qui Col cecchino Perché è comparso Un furgoncino Alla mia destra Ehi no Comunque Vai Giochiamo Massacriamoli Un po' tutti Ma vediamo Loro saranno Ora Subiti In una posizione Di vantaggio Praticamente Perché stando su E infatti Eccoli Dai fammi andare La granata Addio Dai Giù stiamo perdendo 0 a 2 Grandissi Accanto Davvero Mannaggia Accanto Mi ha distrutto Quello di là Allora Vediamo Andiamo Se qui riesco A uccidere qualcuno No no C'è il mio compagno Infatti La lancio qua Ok Vediamo se qualcuno Passa da qua Da cavolo sta Oh 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 Lo ucciderei Ma Non so 8-8 Io non sto giocando Allora Spaniamo qua Vediamo cosa riesco a fare Allora Dai Cavolo Crepa Quanto cavolo Ho smirato Cosa Ho fatto Cioè Bobo Allora Vediamo cosa riesco a fare Mi sparano sempre qua Giusto Giusto Così Allora Voglio andare qua Ma ci muoio Ci muoio Però ci muoio Ci muoio Ogni 2x3 Praticamente Allora Vai Allora Dai Dai Io non lo uccido Però Cioè Se io non lo uccido Come cavolo penso Dai Proviamo una carambola Lì Andiamo No Qualcavolo Non è passato il muretto Mannaggia Ne verranno da dietro No Il dietro C'è il mio compagno Dove cavolo sono spawnati Stanno spawnando Più Più tost Con il mio compagno L'avvistico L'avvistico Ok L'avversario sono andato Dai raga Non sto giocando Praticamente Ci muoio Da dare una mossa Allora Vediamo Andiamo da questa Raga Perché mi si dia Stare Arroccato Praticamente Vediamo se Passa qualcuno Da lì Non vedo nessuno La Neppure lo spawn È disabilitato Per loro Allora vai Ok Ricarica Veloce Ok Qua ci stanno i miei compagni Dove cavolo stanno tutti Raga Cioè Non l'ho capito Qua ci sarà qualcuno Ma la campero Un secondo Qua c'è qualcuno E infatti Lo sapevo che c'era qualcuno Perché Non sto mai fermo Mannaggia Lì ad esempio Servi a camperare Ehm Allora Vediamo Ancaci Hcxt Se l'ho stato Andato a fare Se l'ho fatto Si grande Da dietro No I miei compagni Stanno sparando Dove cavolo stanno Io raga Non capisco Dove sono Qua servirebbe Un ab Perché così Non lo capisco Rai Da qua C'è il mio compagno Dove cavolo Stanno sparando Rai Mi sono Saltato Qualche spawn Di loro E ora Non li ritrovo più Qua c'è il mio compagno Stanno ovunque I miei compagni E gli avversari Sparo Ok Qua non ci sta nessuno Ma boh Eh io non gioco tanto Cioè Tanto è simpatico Stare qua Giro per la mappa Eh i miei compagni Stanno vincendo Cioè Di cui i miei compagni Perché io non sto Giocando Praticamente Ma allora Vai I miei compagni E' morto qua Quindi per farci Dove essere qualcuno Cioè Mi rifiuto di crederci Che non c'è qualcuno E invece C'è l'altro mio compagno Non ci credo Stai ovunque Ovunque Qua ovviamente Non passano i colpi Quelli miei Non ucciderò nessuno Quelli loro passano Da un chilometro Io da là sotto Va bene Allora Vediamo se qua Lo spawn c'è Per il mio compagno Qui vediamo chi c'è Nessuno Stranissimo Strano che non c'è nessuno Utilizzo sparro No Non ci credo Hai visto che non mi fido Di utilizzarlo Eh vabbè Io non mi fido Completamente raga Ma Il Tempest E' troppo forte Il Tempest E' troppo forte Io raga Utilizzo sempre Il Tempest Cioè Perché Perché ancora Non avevo visto Qualche mio gameplay Col Tempest E' visto Freeza tutti Basta che Ne prende Mezzo E li prende tutti Tutti quelli che ci sono Nella stanza Non ha senso 58 42 Sto facendo Dai Muoviamoci Allora Quello nelle scale Quello nelle scale Ok Ovviamente Faccio hit marker Ovviamente Dai assist 48 Sto facendo Neppure sto giocando Va bene Allora vediamo Se questa di qua Ucciderà qualcuno Bobo Mannaggia Quanto cavolo Smiro però Allora vediamo Qua per forza Ci deve essere qualcuno Non ci credo Che non c'è nessuno Ok Eccolo Mannaggia Ovviamente Chi mi ha uscito Il primo Guarda Il primo C'è il primo Che era il lauree Il secondo Perché c'è questo di qua Che è devastante E' devastante Questo 610 Allora vediamo Se riesco Ad anticiparlo Da qua Penso di no Comunque Infatti Già loro Se ne sono andati Mannaggia Ragazzi Smiro troppo Col Col Vesper Devo prendere Un'altra classe Col Vesper Non Smiro troppo E poi Pochissimi Cari E Mannaggia Mannaggia E ovviamente Il Tempest Ovviamente Il Tempest Cioè E' devastante Raghi Il Tempest E' troppo Forte Oramai Non lo nerfano Non lo pacciano Più Però C'è sta cosa Che ne prende Uno E dopo Prenda Tutti quelli Che ci sono Non l'avevo Visto Stavo parlando Mannaggia Dai dai Corri 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 Non l'avevo Assolutissimamente Visto No 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 C'è la trappola L'ho vista Dopo L'ho vista Dopo 71 70 Non ci credo Che riusciamo a perdere Così devo cambiare Metto il cecco Metto il cecco Anche se qui Il cecco Non so raga Però Cioè Stanno tutti lì Stanno tutti lì 72 74 I miei compagni Sono morti Cioè Non fanno più niente Ok Ottimo Fantastico Mannaggia Chi cavolo Deve prendere Se non a me Guardate lì in chat Solo a me Appreso Ovviamente Lo uccido Ma Dai cavolo Prendi quello Bella Bella con il cecco No 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 Hitmarker così No Hitmarker così No Dai che cavolo Quanto stiamo 84 Meno Che l'ho piazzata Alla poco fa Ok Vediamo No 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 82 85 No no Non ci siamo Non ci siamo Non ci siamo Assolutissimamente Rai Ci dobbiamo dare una mossa Ci dobbiamo dare una mossa No 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 Oh Oh Qualche arma Il berge Ok Anche se non mi fido Utilizzarlo Molto Ottimo Vediamo se c'è qualcuno là Non vedo nessuno Mannaggia Mannaggia Dai qualcuno che viene da là Per forza ci deve essere Dai Grande L'ho ucciso L'avevo ucciso così Ma c'è il coso No C'è il coso Ok Ottimo Piazzalo Piazzalo qua E vabbè se ne va Allora lascio lì Dai 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 Cavolo 91 93 No 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 il Tempest Il Tempest Perché mi prende sempre a me 92 97 No 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 98 Eh raga Dai dai Cavolo Stanno tutti qua Stanno tutti qua Stanno tutti qua Non ci credo Raga Se riuscivi a Entrare Erano tutti morti Ma non ci credo io Qua mi ha ucciso Eppure il mio compagno Peccato Quello di là Si è girato all'ultimo Non ci credo raga Comunque Vi dico che per questo appuntamento È tutto Vi ringrazio Tantissima visione Vi ringrazio Se vi è piaciuto questo video Condividerlo Spalliciate Commentate Condividete Ci si becca A un altro appuntamento Qui Il vostro Zeus Bella 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 Raya Grazie a tutti